Perché in tanti a Roma il 25 ottobre? Perché in tanti in questo paese stanno vivendo una condizione inaccettabile. La maggioranza delle persone si trova o con un lavoro incerto o senza lavoro. E in questo modo si danneggia l'intera comunità. Quindi chi vuole un paese e torna a essere forte nel mondo deve fare qualcosa perché si abbiano delle politiche che finalmente rispondano a questi bisogni. C'è una realtà pesantissima e si continua ancora a dire tante, tante, tante parole. Magari qualcuna anche decente, ma troppe parole. Sembra più che si vogliano celebrare delle personalità che non risolvere dei problemi. Se un paese come questo che ha avuto negli ultimi sei anni due milioni di licenziamenti dice che il problema è che si è licenziato troppo poco, è un paese che non può andare da nessuna parte. Noi pensiamo che invece bisogna affrontare su un altro versante, sul versante della crescita. È successo qualcosa di significativo in queste ore. Quella della Francia segna una rottura che apre uno scenario del tutto diverso. L'Italia appare impreparata, balbetta di fronte a decisioni di questo genere. Gli scenari che si vengano a disvelare sono importantissimi. E noi pensiamo di fare un'economia forte, un'economia giusta, licenziando un giustamento le persone. Francamente mi sembra che si stia prendendo un granchio enorme e questo paese non se lo può permettere.